mi trovo in via picardi per intenderci via picardi è quella traversa quella strada compresa parlo di estremità da un lato viale virgilio proprio andando in fondo e poi arriviamo all'altra estremità che corso italia ma sono qui per mostrarvi lo stato di abbandono in cui si trova il marciapiede anzi si trovano i marciapiedi questo è uno dei marciapiedi mesi fa furono abbattuti gli alberi perché erano alberi di alto fusto le cui radici risultavano pericolose per la sicurezza in quanto sollevavano il manto stradale e purtroppo si è stati costretti ad abbattere gli alberi dispiace triste vedere dei tronchi morti però se era necessario per la sicurezza era giusto che si procedesse in questo modo la cosa grave però è che noi a distanza di mesi vediamo che nulla è cambiato è rimasto il brecciolino e l'amministrazione comunale l'amministrazione melucci non si è degnata di intervenire perché qui andava appunto andava bisognava scavare bisognava togliere le radici bisognava livellare bisognava in buona sostanza ripavimentare invece nulla e ho raccolto le segnalazioni dei cittadini i quali si lamentano giustamente del fatto che quando piove il vento crea una situazione di disagio perché qui diventa praticamente una zona di campagna e anche con ripeto questo brecciolino che tra vento e pioggia poi va a invadere anche il il manto stradale che peraltro è nuovo è stato appena rifatto beh che dire questa è l'amministrazione dei rendering l'amministrazione degli annunci l'amministrazione delle chiacchiere i cittadini sono stati illusi ma l'illusione è durata alcuni mesi perché poi dalla illusione siamo arrivati alla disillusione e siamo arrivati all'incazzatura sì perché il cittadino si incazza quando si vede preso per i fondelli dall'amministrazione melucci un'amministrazione che dorme un'amministrazione che è ferma un'amministrazione paralizzata che come detto più volte sa solo annunciare sa fare i rendering ma poi quando dalle parole si deve passare ai fatti concreti beh è chiaro che poi alla fine come dire la maschera cade più precisamente voglio farvi vedere questo tratto guardate qui abbiamo il cordolo completamente sollevato e abbandonato e qui purtroppo è caduta una ragazza che ha riportato dei seri danni fisici guardate qui non diciamo chiacchiere è evidente la realtà un cordolo sollevato si inciampa molto facilmente e poi giustamente chi subisce i danni chiede i danni chiede il risarcimento all'amministrazione e poi a pagare siamo noi cittadini contribuenti perché quando viene condannato il comune le condanne i risarcimento si pagano con i nostri soldi con le nostre tasse guardate qui questa poveretta che è caduta chissà quante altre persone rischiano di fare la stessa fine ho parlato di inefficienza dell'amministrazione melucci rincaro la dose strafottenza guardate qui guardate questo tronco abbandonato qui cos'è un pezzo da museo boh e poi guardate ancora ci facciamo un po più avanti e i cittadini mi hanno sottolineato il fatto che qui il marciapiede risulta essere molto ma molto lungo motivo per cui la macchina nel girare le macchine nel girare hanno problemi quindi si poteva farlo un po più corto e consentire la curva consentire alle macchine di girare tranquillamente e la cosa ha comportato più volte il fatto che le macchine andassero a urtare contro i cordoli questo vuol dire proprio non essere capaci neanche di progettare ripeto ma qui al comune più di qualcuno come diceva come dice che cozzalone è del mestiere